Ha portato all'interno di un ospedale pediatrico la magia della musica e del pianoforte. Lui è Ramin Barami, maestro iraniano tra i più grandi interpreti al mondo di Bach. Si è seduto al suo pianoforte, collocato all'interno del Meyer e ha suonato per i piccoli pazienti del pediatrico fiorentino con una lezione concerto pensata proprio per loro e che ha lasciato sia grandi che piccini a bocca aperta. L'evento, ideato e organizzato dal centro studi della fondazione Meyer, si inserisce all'interno della milanesiana prestigiosa rassegna culturale che ha trovato all'ospedale Meyer e nella sua fondazione uno dei suoi luoghi massimi di espressione. D'altronde la musica è una cura, sì, per l'anima. Grazie. 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 Grazie.